e poi ragazzi qui Axel e siamo tornati su Steam 2 qua si torna una persona che ha, c'è la televisione facciamo un livelletto a proposito, non sono usciti i video ma avevo pre-registrato già due video quindi sono usciti e sono usciti quelli non si manca il tema del gioco, non mi ricordo il nome quindi per il momento con cui si lascio in disporte ho fatto passita gigante, non potete neanche immaginare comunque sia la cassa è praticamente inutile perchè ti mette a posto via due o tre ruppette in croce una volta tu conquiste la cosa di nuovo non lo puoi vendere e adesso arriverò a 30 gemma e poi si fa lo spacchettamento amplio la cassa perchè è più importante quello e poi siamo in Steam 2 e parliamo un po' di questo il problema è forte e dato che gli ultimi minuti sono stati quel gioco paura di stancare un po' e quindi per un po' non ho la parte io sinceramente ci continuerò a giocare e poi ho fatto un po' di questo video che mi racconti un pazzo poi ho giunto un verso me o comunque è stato un bel video anche se noi siamo stati separati e poi avete sentito tipo del casino è perchè ci sono lasciate uscire le scarpe però non credo vi abbiate visto da parte perchè con i pezzi ho dovuto risaltare ovunque sia dai è sempre bello tornare alle fonti perchè ho scritto uno dei primi giochi dopo Minecraft no in realtà forse è stato proprio per questi tre giochi doveva essere venuto sul canale qua era il tipo di Minecraft av cioè me l'ha fatto installare che che perchè io lo stavo cercando lui ha trovato una specie di Minecraft gratis e poi questo Junior vedendolo perchè c'è entrato anche lui per questi iconi infatti c'ha fatto la casa ha detto che gli era un upload ha una grandissima non lo schipperò anche perchè io voglio vedere comunque questo vuoi portare sul canale peccato vi faccio i minti che questo qui fosse un gioco bellino però non non va si perfetto allora Sì, in realtà io mi sto impegnando questo veloco, è veramente difficile, perché hanno un gotto di vita. No, è impossibile, mancano altri, cioè contando questi due livelli, voglio dire che dopo questo livello qui sto, non ho veramente il coraggio di andare avanti. Non mi avrete mai! Adesso c'è il settimo, io sono morto. Sono mortissimo, sono mortissimo, e io non sputo di vita. il video io lo guardo perché posso sempre vi ringrazio per la visione scusate se è un video corto non riesco commentate condividete iscrivetevi da Axel tutto ragazzi